L'asse destro è quello che regala gioia al Diliddo. Prima ne approfitta il Barletta, che passa in vantaggio con Procida al 14esimo del primo tempo, con la rete che si gonfia dopo un'insistitazione personale. Poi tocca all'Unione Calcio Biceglie, che trova il pareggio a metà ripresa grazie alla caparbietà di guerra e all'acuto di Compierchio. Unione e Barletta si dividono la posta nell'andata dei quarti di finale di Coppa Italia di Lettanti, in un pomeriggio caratterizzato da pioggia ed emozione a intermittenza. Di Simone, privo di Preziosa, Zinetti e Bufi fa turnover e lascia in panchina lo russo e dispoto nel 3-5-2 di partenza. Modulo speculare alla prima sulla panchina bianco-rossa per Max Tangorra, che affida le chiavi della difesa a Monopoli e punta sulla coppia Pignataro-Faccini in attacco. Avvio, privo di grandi emozioni, eccezione fatta per il tentativo messo in campo al secondo minuto da Faccini. Il numero 11 del Barletta, conquista palla sulla fascia sinistra, si mette improprio e prova a cercare la conclusione dal limite dell'area. Sfera sul fondo. Al quattordicesimo, i bianco-rossi passano in vantaggio. Slalom gigante di Procida, che salta secco tre uomini partendo dalla fascia destra, si accentra e con un sinistro a giro batte Ferruggine sul secondo palo per lo 0-1. Prima rete in bianco-rosso per l'esterno ex Brindisi. Pochi minuti ed è Marinaro a provare a legittimare il vantaggio bianco-rosso, ma il suo tiro dal limite dell'area termina letteralmente alle stelle. Al ventunesimo, primo tentativo dell'Unione Calcio. Guerra su punizione dei 35 metri. Stacco di Di Giorgio sul secondo palo. Traiettoria di poco alta sulla traversa. Ben più pericoloso ingredda due minuti dopo. Stacca su corner di Binetti, ma trova il legno a Caposele battuto. Dopo una fase di studio prova Andriano a calciare dalla distanza. Caposele vola e devia in corner. Finale di tempo del Barletta. Faccini per Pignataro. Sterzata e botta. Respinta bene da Ferruggine. Nel finale, cross di Marinaro. Colpo di testa di Pignataro a botta sicura. Palla però che rimbalza sulla traversa. Sarà l'ultima azione col numero 9 in campo, sostituito all'intervallo da Ganci. In avvio di ripresa, l'Unione Calcio si gioca tre cambi. Dentro Dispo, Tolorusso e Bruno per Musa, Binetti e Palumbo. Il Barletta ci prova di testa con Ganci, ma la sostituzione decisiva. Arriva al ventesimo, con Pierchio rileva in gredda. Sarà un fattore. Guerra si mette in proprio al venticinquesimo, entra in area e apre uno spazio per l'inserimento di con Pierchio. Il mancino è ferale per Caposele, battuto per l'1-1. La reazione del Barletta è armata da Ganci. Prima serve Procide. Il suo cross è bloccato da Ferruggine. Poi prova a calciare a giro dal limite dell'area. La palla supera il portiere, ma tocca il palo esterno. L'ultima emozione è targata con Pierchio in pieno recupero. Il sinistro però è fuori misura. Al fischio finale è 1-1, tutti soddisfatti a metà. Discorso qualificazione rinviato al 17 ottobre, quando le squadre si ritroveranno al Manzi-Chiapolin.